50 anni fa nasceva l'orchestra mandolinistica di Torino. Per celebrarla si è esibito in concerto il maestro di fama internazionale Carlo Aonzo. In pochi lo sanno, ma la città vanta una lunga tradizione legata allo strumento, uno dei simboli dell'Italia nel mondo. Marco Procopio. Occhi chiusi, orecchie attente, la passione che scorre tra le dita e si fa musica, poi alla nota perfetta ecco spuntare il sorriso del maestro. Il suono dolce del mandolino riempie la cappella dei mercanti. Carlo Aonzo è qui per i 50 anni dell'orchestra mandolinistica di Torino, con il suo strumento e ambasciatore nel mondo di un simbolo della tradizione italiana, forse troppo a lungo bistrattato. È un pregiudizio tutto italiano, all'estero non esiste assolutamente, è un simbolo dell'Italia virtuoso, della cultura, della tradizione. Abbiamo grandi concertisti anche nelle nuove generazioni, quindi diciamo che avremo questo grande ritorno del mandolino, che è già in atto di fatto. Mozart, Vivaldi, Bach, il classico ma anche il contemporaneo, la musica alta che si mescola a quella popolare, da Napoli fino a Torino, un mito che la regina Margherita ha contribuito a creare. Una cosa che forse non tutti sanno è che Margherita di Savoia suonava il mandolino e ha iniziato questa tradizione nella città. Questo ha portato ad avere poi all'inizio del secolo del Novecento addirittura una tradizione di pubblicazioni di musica per mandolinistiche. L'orchestra, diretta da Piercarlo Aimone, sta cercando di tenere viva questa eredità, 50 anni di impegno che il maestro Ligure Aonso ha voluto festeggiare insieme.